Oh, è un garpezz! Ma ragazzi, non ci posso credere, questo è il sogno della mia vita, avere un garpezz! It's for you! Meraviglioso, Giacomo, questo è il regalo... Kiss me, baby! Un garpezz! Giacomo Faiate! Giacomo Faiate! Tutto qua! Buonasera a tutti! Scusate, stanno arrivando gli ultimi soliti ritardatari della minchia! Siete qua? I tre posti vuoti sono vostri! E lei che guarda in... Qua! Era alle nove! Tua sorella nel traffico! Cazzo dice che questi qui sono qui dalle 7.20 questi qua! Devi parlare tutta sera? Togli il cappello intanto per l'educazione... Solo lui può tenerlo! Che faccia da sbandati, cazzo! Signore e signori, lasciatemi in piedi! E gli alcolino in piedi! Ehi! Si divento ministro io in galera voi due, casarota! Carca trota! Vabbè, comunque... Che bello avervi tutti qua... Belli carichi! Allora, la domanda che faccio solitamente quando c'è una puntata del Porecast, qui in questo teatro meraviglioso, c'ho il fiatone perché come un pirla, ero lì tutti pronti per entrare, ero svestito, cazzo. Non ci credete? Tu mi hai visto che ero svestito? Ma che cazzo dici di sì che non è vero? È vero, è vero, è vero. Vabbè, comunque, allora, chi di voi è la prima volta che viene al teatro Oscar? Il tuo pubblico, questo qua, eh? Allora, sono contento che siate qua per la prima volta al teatro Oscar, dove qui si fanno le puntate del Porecast, ma c'è anche una stagione teatrale che comincia da ottobre fino a maggio e, tra l'altro, lo dico perché è una novità di poco, a 700 metri da qua c'è un'altra sala, la Sala degli Angeli, in Via Colletta, che è sempre nostra, che in questo momento, in concomitanza, c'è un altro evento teatrale, dal titolo, attenzione, attenzione, la Bibbia che non ti aspetti, non fate quelle robe lì, è un altro tipo perché abbiamo una programmazione varia di tante cose, eccetera, eccetera, per cui, quando sarete pronti, dubito, potrete andare anche a vedere quegli eventi lì. Intanto, se vi fa piacere, venite a trovarci qui al teatro Oscar. Oh, comunque, siamo qui per un evento particolare, questa sera, bando alle ciance. Signore e signori, ho il piacere di introdurvi, di presentarvi, it's a pleasure for me to introduce you, Rose Villen! Ciao! Minchia Jack! Minchia Jack! Manco fosse entrata un'artista brava e bella! Poi metti il gomito così, Jack. Ma che caro! Come stai? Bene! Senta Joe! Questa? Cos'è, l'inganno della cadrega? Ti piace? Sì, mi piace forse più blu, più pandan, però forse è il tuo lato migliore? È il mio lato migliore con lì. Allora, mi sacrifico. No, no, è che non ci sento da quella parte qua. Potrebbe far ridere, però, mettiti lì, mettiti lì. Comunque, Rose, guarda, solo per te, stasera, only for you, do ma per ti, perché è poliglotta la signora, eh? Lei parla svariate lingue, è vero? Per il milanese. Italiano, inglese? Milanese. Milanese. C'è qualche milanese qua? Minchia tutti i terroni! Cioè, veramente, è incredibile. Sei ma milan che non è anche un milanese. Cioè, incredibile. Che schifo sono tutti i terroni. E la sede! No, la sede, no. E si vedeva. Tu, tu, Veneto, il terrono del nord, no? Che capisco? Vabbè, comunque, ascolta, solo per te, guarda. Trac. Cioè, non ce ne sono accorti? Ragazzi, sveglia, eh. Cioè, dai, su. Allora, qui, vedi così, guarda. Guarda, Ross. Meraviglia. Ho già capito, ho già capito che bisogna ripetere le battute almeno due o tre volte stasera. Però, vabbè, comunque, la piantina è solo per te. Grazie. La mangiamo? No, non è commestibile questa qua. Però, volendo, potremmo fare un'insalatina, no? Tipo quella di ieri, a pranzo. Dopo raccontiamo, dopo raccontiamo, dopo raccontiamo come siamo arrivati a questa puntata di avvicinamento. Ci siamo conosciuti al ristorante, ma ne parliamo dopo, verso la fine, perché bisogna un po' carburare. Allora, bella roba. Ti ho vista a Sanremo, no? È un luogo che mi mette un'ansia incredibile. Sì. Perché noi tre abbiamo partecipato, una partecipazione ingloriosa, ma lasciamo perdere, no? Dove abbiamo fatto, tra l'altro, lo sketch di Pador, figlio di Khmer, quello che sai che... Ci sono qua. Esatto. No, ma volevo chiederti, no? Perché facciamo lo stesso lavoro, nel senso che siamo nello show business, no? Come si dice, no? E come vivi l'ansia, se l'hai avuta o in generale? Ma, in realtà, no. A Sanremo ero abbastanza tranquilla. Io tendenzialmente metto un muro, cioè io non ci penso fino al momento in cui devo... E penso sempre... Ho pensato proprio... Quest'anno, insomma, non se lo fila nessuno, Sanremo, non lo guarda nessuno, un teatrino, la fine, l'Aristano, comunque non è che ci sono 15.000 persone, quindi faccio finta che la telecamera non esista e... Sti cazzi. Quindi te la sei cavata così? Sì. Brava, brava. E ti sei esibita abbastanza tardi, tra l'altro, no? Sì, tardissimo. Infatti, forse anche quello mi ha abbastanza... Stavo dormendo, praticamente. Mi hanno svegliato. Guarda che devi salire. Ah, Dupal. Stavo commettendo una grave dimenticanza. La band, gli anagrammi! Ma, lo sai che loro, lo sai che loro, oltre a suonare, eccetera, eccetera, sono bravi, si chiamano così perché loro sono specializzati ad anagrammare, la parola difficile che è difficile, è anagrammare i nomi degli ospiti. Siete pronti ragazzi? L'anagramma anche di Rose Villen. Villen? Giacomo, l'hai detto benissimo negli altri giorni. Ma io sono di Manchester. Mi hai sbagliato adesso. Io sono di Manchester, la dico. Ah, ma, allora... La dico così, va bene, no? Sì, sì. Com'è che si dice a livello? Rose Villen. Rose Villen. Villen. Ma non è più facile a casa, non potevi trovare. Ma non è che Giacomino Porretti sia facilissimo. Ma è facile, dai. Comunque ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, l'anagramma di Rose Villen. Potrebbe essere il brand di un'azienda vinicola. Vini Sorella. Beh, che is... È già business. Giacomino, investiamo, facciamo il business. Non è finita. Non è finita perché, sempre anagrammando Rose Villen, possiamo scoprire anche una nuova qualità di vini, dai sentori fruttati ma con un retrogusto affumicato, quasi bruciato. Novelli Arsi. Olla. Roba tosta. Cioè, non lo direbbe nessuno che sei degli alconisti anonimi, no? Cioè, anche nel nome, no? Capito? Sì, sì. Comunque, senti, ma quando è che hai cominciato a cantare? In che senso? Puoi aiutare la tua? In che senso? Cioè, non so. Quando cominciamo a cantare? No, per dire, non so. Nella vita? All'asilo! Ah, ma che tempo verbale hai usato? Allora, quando cominciamo quasi sembra puro. Comunque. Sarà difficile, cazzo. Guarda che sei un po' bacchettosa. No, ho cominciato a cantare. Ma allora... Se poi cambiamo la domanda, eh. Sì, perché tanto non è che mi pertiene troppo questo argomento, no? Sai che non sento un cazzo? Abbiamo anche da bere, eh. Allora, in realtà la musica è sempre stata presente, cioè, da quando sono nata, c'era sempre la musica in casa, però ho iniziato a esprimermi attraverso la musica ballando all'inizio. Ballando? Sì, non sapevo di avere una voce, una delle doti vocali, e quindi voto danza, classica, poi ho fatto anche tip-tap, ho fatto tantissimi danza, però... Tip-tap. Tip-tap. E poi ho scoperto una sera il karaoke, per scherzo, perché mia mamma piaceva molto cantare, ho scoperto che mi ha dato il microfono, ho cantato e mi ha detto, aspetta, tu perché vuoi fare la ballerina? Pirla. Pirla. Pirla, e io ho detto, eh, cantiamo allora. E poi, comunque, la musica è sempre stata la grande passione, il grande drive, ecco. Però tu, come tutti i ragazzi, non pensavi, cioè, se hai fatto un percorso scolastico tradizionale, normale. Ma, in realtà, io non ho, in realtà ci credevo tanto, quando ho capito di sé perché, cioè, io volevo fare spettacolo, volevo che la musica fosse, quindi in realtà non ho mai avuto veramente un piano B, io ero sicura. Quando ho scoperto di avere una voce, ho cominciato a scrivere canzoni, ero proprio sicura che avrei fatto questo mestiere e ho convinto tutti che questa cosa potesse succedere. Infatti, poi la mia famiglia mi ha supportato e ho fatto il liceo, ho finito il liceo. Che liceo? Linguistico. Io le lingo. No, e poi ho studiato. Ma com'era? Aspetta, aspetta un attimo. Cioè, com'era la scuola? Allora, nelle materie scientifiche un cane, un cane vero. Nelle materie letterarie era un po' una secchiancella, la madre badessa. Secchiona? No, non secchionissima, però un po' secchiona. Ma che ti chiamavano? Madre badessa. Madre badessa. Ma in realtà è mio padre che è qua, in famiglia mi chiamano la madre badessa. E sarà un motivo, eh. Sono un po' piccoglione. Che cazzo? Madre badessa proprio. Madre badessa. Vabbè, però avevo questo sogno americano, perché dalla piccolina poi ho visto, guardavo MTV ai tempi tutto il giorno questi video musicali e ho visto Britney Spears, che tra l'altro questo microfonino un po' da sentire. Sei un po' Britney Spears. E quindi avevo questo sogno di provare a vedere, perché ai tempi non c'era una pop star italiana come Britney o come sono state quel pop anni 2000, o come Madonna, non c'è stata proprio quella cosa del ballo, dei lustrini, dei vestiti, e quindi io lo vedevo che era una cosa prettamente americana. E quindi io appunto sono andata a studiare all'estero, musica. Quanti anni avevi? Avevo 18. 18 anni. Sì, sono andata dall'altra parte del mondo, ho studiato musica, ho studiato un po' tutti, ho fatto il conservatorio contemporaneo, quindi in realtà ho studiato anche per dire rock, blues, reggae, tutti gli stili. Ho studiato, ho imparato malissimo tutti gli strumenti e poi ho cominciato a scrivere canzoni e grazie al cielo... La chitarra la suoni bene, però. Malissimo. Malissimo? Malissimo, però per scrivere canzoni la uso, però non ho mai avuto le palle di suonare davanti, cioè sul palco, mi cago sotto un po'. Senti, ma lì negli Stati Uniti era un interesse, io per esempio avrei avuto, e ho avuto il terrore, mi ricordo quando andavo alle medie, ma per imparare bene l'inglese bisogna andare in Inghilterra, io mi sono cagato sotto, sono rimasto a Milano, però scemo io, ma allora all'epoca non era come adesso, che l'inglese era... Cioè se non sei l'inglese adesso sei un coglione, cioè... Eh, sì, partuti... Va in galera, no? Sì, sì, va in galera. Tra un po' ti chiedono, anziché patente e libretto, faccia vedere l'attestato d'inglese. Ma tu non parli da Dio l'inglese, eh? Sì, ovviamente. L'inglese è la mia seconda lingua. La prima è l'italiano, ma preferisco l'inglese. Sui sento in merito. Cosa ha detto? No, no, mi interessa il mondo, cioè una ragazza che va negli States a studiare musica, come è stata? Come ti hanno racconto? Eh, guarda, alti e bassi, perché comunque ero piccola e stare molto lontano, perché poi tipo io ero andata prima a Los Angeles, che era 16 ore d'aereo via dalla mia famiglia, no? Quindi all'inizio è stato abbastanza, cioè ero spaisata, e so che il sogno era lì, mi sentivo nel posto giusto. Ancora adesso, in realtà io poi ho vissuto 14 anni a New York, quindi in realtà io mi sento un po' americanina, cioè metà della mia vita quasi l'ho passata negli Stati Uniti. Però lì è un mondo molto diverso, una cultura diversa, dove però l'arte è proprio messa su un piedistallo, sono tutti artisti. Quindi io mi sentivo di appartenere, mi sento ancora di appartenere. Però l'Italia, ho sentito il richiamo che aveva bisogno di un po' di pop, oh la madonna. Ma senti, ma c'è differenza tra Los Angeles e New York? Sì, io, Los Angeles non è il mio posto, è una città, è molto grande, ovunque devi andare devi stare in macchina a Los Angeles. Ma questa roba è un amplificatore di… Il microfono Britney Spears, bisogna saperlo dosare, sai. Quindi devo parlare. Non tutti lo sanno dosare bene. La fede! Non so come lo usa, però tu. Cioè ti consiglio di… ecco, per esempio qui, le consonanti esplosive, tu sai quali sono la… Sì, Los Angeles. Ecco, ecco, vedi, cioè vai piano perché se no ti esplode, no? Quindi parlo. A un certo punto. Comunque, all'Os Angeles, sai che c'è stato anch'io una volta in vacanza, vacanza, non, no? E eravamo lì con una persona del luogo, grazie a Dio, e fa, oè stasera Giacomo, mia moglie, Daniela, così, andiamo al ristorante Gebers, no? Credo che si chiamasse così, no? E a che ora andiamo? E alle nove, vengono a partire alle sette e mezza. Come sette e mezza? Perché 85 chilometri di distanza. Ragazzi. Ma che no una pizzeria che… Ma Los Angeles sei grande come il Piemonte. Cioè se tu sei a Venice Beach e vuoi andare a Hollywood, devi stare un'ora e mezza in macchina. E sei alle cinque, l'ora di punta, devi stare a due ore. L'amenata infernale. E quindi infatti poi ho scoperto New York dove andavo, sono passata e mi sono… Lì è meraviglioso. Cammini ovunque, tossici dappertutto. New York? La Madonna. La Madonna. Sì. Hai incontrato l'assai. Ma ascolta un attimo, mi interessa questa roba. C'è una ragazza giovane che va così lontano, la famiglia ti mancava, hai nostalgia. Sì, ancora adesso quando sono tanto per periodi lunghi, la famiglia chiaramente è la famiglia. Poi io sono una famigliona, non so se si dice. Io amo, abbiamo una famiglia, una famiglia grande, infatti sono cugini di tutti i tipi stasera. Siamo una famiglia grande. Il quartiere qua è tutta la sua famiglia. Per dire, parlo con loro che poi magari se vi frequentate diventate parenti uguali perché loro sono un po' così. Però il sogno è così grande, cioè io ho questa cosa, non riesco a domarlo. Quindi i tuoi genitori ti hanno secondata, non ti hanno… Sì, sì, ma io non gli ho lasciato molta, cioè ci hanno proprio creduto. Io non mi dimenticherò mai, una volta mi hanno detto, guarda che fare il cantante, come fare il calciatore, i livelli che vuoi fare tu è serie A, cioè uno su un milione, io faccio fidatevi e loro mi hanno detto, ok cazzo vai, battene. Quello lì mi sono divertito di brutto senza di me comunque, i vecchi bastardi. Ma no, è bello comunque, è importante, credo che sia importante avere incontrato diverse persone, il Porecast e molti mi hanno raccontato questa cosa di aver avuto dei genitori non solo consenzienti, ma che comunque non hanno ostacolato i sogni dei propri figli. Io forse l'ho già raccontato, ma mi ripeto perché sono un anziano, quindi c'ho una punta di… Capito, no? Anche i miei genitori, pensa che io avevo 29 anni e lavoravo in ospedale, no, quindi ero già arrivato nel… facevo il caposala, do you understand? In ospedale? Ah, lei è medico? No. Lei è un po' ignora. Ignoro? Ignora, il caposala è il capo degli infermieri. È tipo il mimo? È il mimo, cazzo dici! Lei deve fare la puntura, lei fa il mimo. È il capo degli infermieri, capito? Il medico è un'altra cosa. Capo? Sai la differenza tra medico e infermiere? Sì, l'infermiere non apre. Non? Non apre. Non taglia. L'infermiere taglia? Allora, mi rivolgo alla famiglia, no? C'è anche un approfondimento in italiano sarebbe stato utile, non solo l'inglese, quello che sostengo. Vabbè, comunque, non voglio fare polemiche. Sì, è vero, l'infermiere non è deputato a operare chirurgicamente ma, casomai, a... Tamponare. Bravo. Dottor Pivotta. Mi tamponi, no? Esatto, bravo. Vabbè, comunque, adesso è che dobbiamo parlare del... Dopo undici anni di tamponamento, no? E... Deciso di fare una scuola, di andare via, ha fatto una scuola di teatro, mi sono licenziato e l'ho detto ai miei genitori. Mamma, papà, mi licenza dall'ospedale. Mi amavo... Va bene, fai quello che vuoi. E quindi mi ha lasciato fare, no? Per dire che è importante... Col magone. Col magone, no? Mio papà, credo che non abbia parlato per sei mesi, no? Però mi ha lasciato fare, no? Ma se tuo figlio ti dice, voglio fare l'artista, tu non... Cazzo! Il drividino quando ti ha detto che voleva fare il liceo artistico, caghetta, eh? Sì, perché abbiamo parlato, ho detto, mio figlio era in dubbio se fare il liceo artistico, il classico. E che è il classico! Il classico. Che rottura di coglioni. Il latino e il greco, dimmi, dove lo usa? Dai. Sembra il mio figlio, passo. Passo le serate a dirgli, non ti preoccupare, capirai l'importanza. Non lo so nemmeno io, ma devo dire qualcosa, no? La palissian. Ma che è la malizia? Cosa c'entra? Cioè, che ti apre la mente il liceo classico. Ma dove? Cosa ti ha? Guarda, io l'ho studiato il latino. Ma c'è miliardi di persone che hanno fatto il classico, saranno mica tutti coglioni, eh? Non è che bisogna ridursi tutti come la fede, cazzo! Cioè, studiare è importante! Eh, ma fa più soldi la staff o il professorone? Ah, eccola qua! Ecco qua! Cioè, ma ti rendi conto che ti sei messa su un argomento scivoloso? Eh, ma scivolosissimo! Cioè, non è che conta solo il denaro nella vita o è così? Però loro non è... Non loro, lecce rifare, loro andranno in galera dopo la sera a te stasera, cazzo c'entra! Ma tu, tu, Ros Villen o Villen o Villen o Villen o come cazzo si dice! No, ma... C'avevi un bel nome, Rosa, no? Per complicartelo. Rospo da vecchia. Ma è bellissimo, Rosa. Ora, dopo Titanic c'è stato... Nessuno mi ha mai più chiamato Rosa, ma neanche la mia nonna di cent'anni mi ha chiamata Rosa. Quando mi sgridano mi chiamano Rosa. Rosa? Rivido tutto il corpo, non dirlo mai più. Allora, digli, non sgattaiolare! Ma no, adesso, per dire, fai i soldi, ma nel senso il successo, cioè il raggiungimento di un obiettivo che poi ha che t'appaghi e ti compri... Non so, ti compri... Il concetto è una casa. E non mi sembra che tu, cioè, alla fine hai fatto il film... Ma l'ho capito! Ma voglio dire... No, ma... Vabbè, 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 vabbè. Cioè, certo che io non ti inviterei mai a te in una scuola a fare un corso di orientamento scolastico, cazzo. Per esempio, no? Segui i suoi sogni, segui il tuo istinto, il tuo cuore. Ma no, ma una cagata, cioè, bisogna... Comunque... Tuo figlio farà il rapper. Io? Tuo figlio. Ci parlo io con tuo figlio. Allora? Eh no. Sei sicuro? Ma che mio figlio suona la chitarra da Dio, eh? Eh sì, ma la chitarra... Però poi cosa vuole fare? Cosa vuole fare dopo il liceo? Il rapper? Cosa gli stai... No. Tu cosa gli stai dicendo? Dove lo stai indirizzando? Io no, io non l'indirizzo, perché io sono come mia mamma. Fai quello che vuoi. Ma cosa ti piacerebbe che facesse? Ma no, ma è un certo. Ma se dovessi scegliere... Ti dicono, puoi scegliere tu la professione di tuo figlio. E lui è felice. E lui è felice. Io? Io se ti facessi scegliere io? Il dottore. E poi se ti ammalate non c'è un cazzo di indottore, voglio vederlo. No, fai il rapper, fai... Cazzo. No, facciare il rapper. Ho capito, cazzo. No, cazzo. No, io voglio fare il trasgressivo. Mi faccio i capelli blu, ma fa culo. No, c'è la musica cura là. Eh, c'è la pendicite, che cazzo ne so. Cioè, qualcuno deve fare il medico, o no? A tuo figlio. Ma capito, perché se mio figlio fa il medico, fa schifo. Io non so se mi farei operare da tuo figlio. Non lo so. Non lo so. Ma è classico, almeno scientifico. Cambiamo. L'avvocato. Sei cattivo, infido. E chi è che difende gente come questi qua, se non c'è un avvocato? Chi è che li difende? Ci sarà qualcuno? Ma il tuo figlio. Ma ho capito, ma qualcuno. Ma fagli fare una cosa divertente, l'attore di Hollywood. La? Minchia, modelle, macchine, si diverte, le feste. No, l'ha chiuso. Aspetta, aspetta, te ne dico una. Design. Pro, designer. No. Che disegna? Eh? Quando devi fargli farlo artistico? Ma ha voluto lui fare il classico. Secondo me gli hai fatto la faccia della delusione. Vabbè, comunque. Spaceradroga. Cosa ti devo dire? Sei contenta? All'aria aperta, almeno. All'aria aperta. Vabbè, comunque tu, l'università, no? Figurati. L'università. Già tanto sai scontare fino a dieci. Voglio di studiare a Sant'Umadò. No, non è vero, perché tu sei madre badessa. Sì. Tutti, dietro a quel cappello blu. Leggo dei libri ogni tanto. Leggi dei libri? Cosa leggi? Eh, ogni tanto leggo. No, ogni tanto leggo. Dai, dire la verità. Cosa? Sì, leggo. Cosa leggi? Guarda, l'ultimo libro che letto si chiama Sul lato selvaggio, di Tiffany McDaniels. E poi, vabbè, ma i classici... No. Sì. Tipo? Calvino? Beh, non fare quella faccia lì. Guarda che Calvino è un grandissimo... Cioè... Dostoyevsky. Eh? Dostoyevsky. Ma non devi dirlo per fare piacere a me, cioè, capito? No, Dostoyevsky spacca il culo. Dostoyevsky? Spacca il culo, ho detto. Scusa, chiedo scusa. Dostoyevsky spacca il culo, non l'ho mai sentito. Scusate, è necessario un intermezzo musicale, gli anagrammi. Uh! Questi sì che spaccano il culo, questi qua, eh? Altro che Dostoyevsky. Non Dostoyevsky. Non va a cagare Dostoyevsky. Ma non va a cagare Dostoyevsky, vabbè. Mamma mia, vabbè. Eh... Importante la famiglia, vero? Molto. Tu sei, posso chiedertelo, sei sposata, coniugata? Sposata. Sei sposata? Mm-mm. È il Cugnussi, eh? Eh sì. Lo conosco, Landre. Eh sì. E' molto simpatico. Eh sì, è simpatico. Lavorate insieme, vero? Sì. Infatti ti volevo chiedere questa cosa. Le domande le faccio io, comunque. Però, dai. Dopo dico, eh, il patriarcato, la mia famiglia... Dai, chiedi, domanda. No, volevo chiederti, perché tu lavori con tua moglie. Mi metto a fare con te. Oh, no, scusami, che dopo è fuori luce. Tu lavori con tua moglie? Sì. Ma come la sopporti? No. Qual è il segreto? Tu giochi a farla trasgressiva. Eh, invece... Ma in realtà non è vero, lo sai anche tu, perché si vede, vi ho visti insieme, siete ciccipeciciop, no? Ma in realtà, adesso rispondendo seriamente, io ho lavorato ovviamente per 30 anni con Giovanni e con Aldo, continuo a farlo ovviamente in maniera un po' più saltuaria adesso perché siamo anziani, ma negli ultimi 5-6 anni con mia moglie, che di mestiere fa la psicoterapeuta, lo ribadisco, non sono in cura da lei. Lei si è occupata anche di teatro, abbiamo scritto tre spettacoli insieme, siamo in giro, in tournée e devo dire che stare in tournée con la propria moglie, pensavo all'inizio di... Oh mamma mia, che litigi, che robe! Cioè i litigi non calano, no? Perché si sa, nella vita coniugale con gli amici si litiga molto, però è bello, è bellissimo, credo che sia, almeno per me, entusiasmante. Eh, condividi un po' gioie e dolori, successi e non successi, è bello questo, infatti è la cosa che mi piace. Mi piace molto questa cosa qua. E poi, non so se capita anche a te, anche a voi, che condividi gli stessi progetti artistici, quindi quando si è artisti, perché credo che un po' si voglia raccontare il nostro punto di vista della vita agli altri, no? E quindi farlo con una persona che... È bellissimo. È bellissimo, dai, ha fatto un violino, dai. Non ho mai voluto, non ho mai voluto, però non ho mai voluto, però non ho mai voluto, però non ho mai voluto. E... No, mai. È for you. Basta, basta, perché se no... Si emoziona, piango se no. Piangi dopo, eh, piangi, piangi. No, no, vabbè, questo è bello. Quindi, insomma, famiglia, bello così, no? Bello. Se non sono indiscreto, prima o poi, piacerebbe diventare mamma? Sì, assolutamente sì. Ma che bello, bello, bello. Perché no? Ma io poi, appunto, ho questa famiglia numerosa, noi siamo tanti cugini. Ho un fratello, io, che tra l'altro deve essere qualche parte. Sì, è qui il fratello? Sì, è lì. Non ricordiamo. Povero, povero. Perché è povero? Eh, non è che sono una sorella facile. Madre, madre, sarò piccolioni. Ah, povero lui. Sì, povero lui. Hai rotto i coglioni tu? È più piccolo di te? Purtroppo sì. Poverino, cazzo. Così facevi? Le menate sull'inglese? Sì, piu, piu, pau, pau, pau. Certo. Dopo glielo chiediamo, dai. Vabbè, comunque dicevi famiglia numerosa. Io ho una famiglia numerosa, quindi tipo anche per dire i Natali, per noi è un evento, cioè io anche solo per il Natale dovrò fare un figlio prima o poi. Cioè per quella magia di… Ho detto una cazzata? Luce, Luce. Ho detto una cagata. Perché? Che cagata hai detto? Non so, solo per il Natale. Per il Natale prima o poi farò un film. Per il Natale? Un figlio. Un? Un figlio. Ah, ho capito, film, scusa. Che film? No, adesso ho capito tu. Mi torna, infatti mi sembrava strano. Ma che domanda mi hai fatto tu? Ma non lo so, adesso lascia perdere. Prato che sei un figlio, già hai detto sei un figlio, ah mi piacerebbe talmente tanto perché pensi il Natale, che meraviglia, e proprio per questo vorrò fare un figlio. Figlio? Eh, ho capito, però parli con… Parli con… Eh, beh, faccio l'artista, non è che… Ho capito, l'artista però, non è che ti devi capire solo quando canti, anche quando… Cioè, hai capito, no? Ma forse anche il microfono Britney Spears. Non è facile questo microfono da domare. Non fai niente tu, scusa. Non devi parlare di… Comunque, però… Parlarlo da questo lato. Ascolta, è molto bello quello che hai detto, perché io penso, forse esagerando, però è il mio pensiero, che il Natale sia il giorno più bello dell'anno. Vero? Io ho sempre avuto la fortuna di avere una famiglia molto affettuosa, la mamma quella di… Sta bene, no? Però a Natale era tutto diverso e quindi è molto gioioso e devo dire che da quando abbiamo questo nostro figlio, quello che farà non si sa bene cosa, no? È molto… Il rapper. È molto bello, è molto bello e quindi sì, condivido la cosa. Quindi sì. Quindi facciamo… Prima o poi… Faremo un figlio. Cioè, dilla bene perché sennò sembra che… Faremo tu e Andrea. Eh, ma fanne tu un altro, anche tu. Eh, io sì, però è che l'anagrafe conta nel fare i figli, eh. Non più? No. Cos'è? Cos'è? No, cara. Cioè, se mia moglie abbiamo una certa età, non è che possiamo avere un altro figlio. Sì, che puoi. Volere è potere. Mettiti in forma. Dovresti frequentarli meno, questi quattro. Va bene. Insomma, abbiamo parlato di figli di Natale, eccetera, no? Sì. Cosa volevi chiedermi? A te? Sì? Del pranzo di ieri? Eh? Del pranzo meraviglioso che ti ho portato ieri? Ah, sì, no, vabbè, scopriamo questo lato che forse già voi conoscete, visto che siete frequentatori di social, eccetera, eccetera, no? Che Rose, oltre ad essere una cantante, eccetera, oltre che tifare per una squadra di calcio meravigliosa, ma non ne parliamo, eccetera, eccetera, si alimenta in un modo particolare, ha un gusto, una scelta ideologica, quella del, non so come definirlo, vegetarianesimo. Progressismo. Cioè, dici, eh? Eh, salveremo il mondo. Sì, no, ma... Vegana. Sei vegana? Sì. Vegana. Anche tu, da ieri? Ieri siamo conosciuti e lei ha posto la condizione, sì, però mi... Un ristorante vegano, non faccio il nome perché sennò intervengono i nas. Cioè, ho mangiato diverse cose che... Buonissime. Ho finto di dire che erano buonissime, no? No, non è vero, scherzo, perché anch'io, eccetera, eccetera, solo che il poveriggio poi ha avuto un mal di stomaco, rutti, tanti e soprattutto flatulente, no? Cioè, io non ci credevo, pensavo di essere io anormale, ho chiamato un amico, Enrico, che era presente al pranzo, no, cazzo, io sto bene, tu che cazzo hai mangiato, ma... Sono sentito in colpa tutto il giorno, poi ho contato lei, anche lei ha avuto... No, lei è vero. Diverse flatulenzine, diverse, non tante, eh? Come no? Nego tutto. Nego tutto. No, è che devi spurgare, quando appena inizi a mangiare vegetale, il tuo corpo tu sempre dici, ah, vedi che mi fa male, invece ti sta pulendo. Poi anche Giovanni, Giovanni è un grande... Giovanni, Giovanni. Giovanni. E per quello che dimostra il 97 anni, Giovanni. Grande uomo. Sarà un motivo, ragazzi, è che tu lo vedete, io lo seguirete, voi lo seguirete anche voi, i rapanelli, i finocchi, salviamo il sughero, oh Dio, la doccia no, bisogna usare l'acqua della pasta, che faccio? Quelle robe lì, cazzo, cioè, va bene, eh, per carità, la carta igienica, no, quella lì, la carta igienica biologica, quella che è fatta con la merda, cioè, hai capito? Eh, 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 si vede, no? Infatti stasera avrebbe dovuto venire e ti ha telefonato che le cunccià debiuta via. Cunccià debiuta via? Ma no, perché c'è il peso del mondo sulle spalle. Il peso del mondo cosa? Ma sì, sta cercando di salvarlo, c'è il peso, gli è venuto un po' di male di schiena, è pesante questo mondo. Ma i capelli blu, cioè, li avevi prima della scelta del veganesimo o...? Ma, no, ti devo dire, questa cosa è pazzesca, sai che io tutte le volte, te lo giuro, che vado in un ristorante vegano, qui o a Milano, all'estero ovunque, c'è qualcuno con i capelli azzurri, cioè, tutti quelli che hanno i capelli azzurri sono vegani. Ma sono gli effetti collaterali del tofu, ragazzi, è quello lì, eh. C'è un ristorro, ci chiama, che è Loredana. Loredana per te, grande vegana. Grande vegana. Grande vegana. La vegana. No, vabbè, no, figurati il rispetto, figuriamoci, ci credo, però, attenzione agli effetti collaterali. No, vedrai che anche stasera, poi se ci andiamo insieme, ti facciamo vedere un po' di verdurine. Il tofu. Il tofu? Il tofu. Non ciò a perdere, no? Ma ti piace che la moda, ovviamente. Sì. Vestirmi, mi piace vestirmi. No, voglio dire... Sì, sì, beh, secondo me nella musica c'è una linea sottile tra moda e musica. Eh, infatti, volevo parlare di questo, no? Mi piace come mezzo di espressione ancora di più del proprio messaggio, di quello che un po' si vuole, non so. No, lo dico perché è molto accentuato ultimamente, no? Io che sono un vecchio ragazzo del 56, quindi i miei ricordi arrivano fino a Woodstock, no? 1968, per cui, cioè, veramente i musicisti, i gruppi rock erano che c'erano, cioè... Massimo della musica quel periodo. Capito? Ma non erano conciati come voi, cioè, voglio dire... Eh, scusa, però poi c'era Bowie... Sì, ho capito, mi ti parlo del 68. Eh, però erano randaggi. Eh? Erano randaggi. Randaggi, sì, sì. Il genere del vestiario era il randaggio. Eh, ma Jimi Hendrix, per dire. Sì, se mi metto qua, perché? La moda, lui, cazzo, era vestito sempre molto moda. Yes. Eh, era Woodstock. Eh. Eh, quindi... No, ho capito. Eh, perché ti sei messo con... No, ma voi avete... No, non ti faccio niente. Non ti faccio niente. No, ok, ok. Siccome sono infermiere, ogni tanto mi viaggio... Hai capito? Sì, è stato il polso. Non c'è. Lei c'è un polso da vegano, sai? Ah, sì, avevo... Non c'è. Non c'è il polso. Il cuore è proprio... No, no, in effetti, invece, è un po' tachicardico. L'ansia che mi mangia proprio. No, quindi no, ma parliamo seriamente di questa cosa. Mi sembra che sia particolarmente accentuato la scelta estetica. In questo periodo? Sì, mi sbaglio. No, secondo me c'è stato... Negli ultimi anni si è un po' sdoganato l'estro. Che prima magari veniva visto un po'... Tipo anche io quando ho cominciato a farmi i capelli colorati, all'inizio, che già da una decina d'anni, mi guardavano male. Che a volte, se mi lo consenti, sembra più l'estro che non... Non nel tuo caso, eh? Non nel tuo caso, no? Sì. E tra l'altro ho anche sentito in anteprima il tuo album che uscirà... Tra due giorni? Tra due giorni. L'8 marzo. L'8 marzo. Ti ha fatto cagare? Dai, Giacomo, ti è piaciuto? Eh, quando c'è... Ma posso dirlo se offendono gli altri? Chi? No, dillo, dillo. Tu, gay. Gwe? Gay? Ma scusa... Ma è venuto qui? È stato il tuo primo ospite. Ma è stato qua, l'ho chiamato tutta la sera gay, non si è affeso, eh? Ma che a lui se gli girano i coglioni, cioè... Eh, ma infatti poi gli hanno detto, com'è andata? Ah, te l'ha detto a te, ma Giacomino, cazzo, mi chiama di merda. Coglionito, mi chiamava gay. Comunque, quella roba lì, gay, 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 mi è piaciuta, no? Eh sì, mi è piaciuta. Molto, sì, sì. Un po'. E esce l'8? Vieni al concerto. Dove lo fai? A Milano. Dove? Può sapere... Eh sì, dove? A Milano. Al Fabric. Al Fabric. Vieni sul palco, canti con me. Eh, ma... Facciamo i bulgari. I bulgari non è che fanno così, eh. Dove che fanno così? Eh, eh, eh. Ascolta un attimo, ma è solo l'8? L'8 marzo esce il disco. Eh, ma tu quando sei... Il concerto è ottobre. Ah, ottobre? Però vieni la festa. Ma vengo a ottobre. No, ma vieni la festa giovedì. Ma sono... Dove sei? Castiglione delle Stiviere. Sarcosè. Ma sapete? Eh? Brescia. Mantova? La Brescia. Ignoranti. Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova. E sono a fare lo spettacolo Funeral Home con Daniela Cristoforo che è mia moglie. Funeral? Funeral Home. Hai detto funeral? È il tuo spettacolo. Non puoi sbagliarlo. Funeral Home, perché non lo capiscono. Se tu dici c'è Funeral Home, non vengono, capito? No, allora, allora dillo. Non vengono, allora è Funeral Home, no? Perché poi l'italiano me lo chiama così, no? Sì, sì. L'italiano ignorante lo chiama così. Il tuo fan medio? Il mio fan medio è quello lì, è Funeral Home. E quindi purtroppo non posso essere Al Fabric. Ma no, ma è a ottobre il Fabric. Ah, capendo più niente. Adesso non ce l'hai una scusa per ottobre. Invece l'otto, invece l'otto... È il 7 marzo. Ah, era l'otto che pensavi, allora è il 7 marzo e devi venire alla festa. Dove? Posso dirlo? È privato. Ah, è privata. Tanto vengono tutti. La pistona. Te lo dirò, perché mi sa che sono a... Guarda, metti la mano a cagare. San Giovanni in Lupatoto. Non è vero. Provincia di... Bravi! La Madonna. Non è vero, però... Ma dai. Porti anche il figlio. Vabbè, ma prima o poi verrò, dai. Sì. Prima o poi verrò. Sì, guarda, sono venuta io. Senti, ma... Poi non solo, anche Netflix. Netflix. Si dice così? Nes-fli-s. Ulla. Dai, Giacomino. Netflix. Netflix. Sì. Netflix. 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 Com'è andata lì? È stato bellissimo. Sì? Sì, un'esperienza... Mi siedo, devo dire che vi le torcicollo. No, un'esperienza bellissima. Io non mi sono sentita tanto giudice di questi ragazzi. È un programma su rap, appunto, che è anche molto bello, secondo me, che una produzione come Netflix abbia fatto, come Netflix abbia fatto proprio un programma dedicato al rap, che è un genere molto particolare ed è spopolando da anni ormai. Quindi, ed è bello perché il rap secondo me è un po' un ascensore sociale, parla di disagio, viene spesso dalla periferia. Tendenzialmente l'artista che inizia a ripare è un po' incazzato. Perché? Eh, perché sarà... cioè, da non essere incazzati? No. Ho fatto una domanda, eh. Eh, perché? Sto andando tutto a rotoli. Un cazzato. Cresci, sei teenager, magari inizi, così c'è quella rabbia che vorresti... Vorresti emergere, vuoi farti un nome, vuoi... E quindi è bello che si vedano le storie di questi ragazzi, che appunto magari sono storie di periferia, sono storie di disagio, sono storie comunque di giovani che vogliono fare... Seguono il loro sogno, no? Quindi è comunque molto emozionante vederlo. Noi ci siamo stati più dei consiglieri che proprio dei giudici. Un po' bacchettoni, è quella che è uscita la madre. Madre badessa. Madre badessa. È uscita. Però è molto emozionante. Ti è piaciuto? Sì. Giusto. Si è conclusa l'esperienza, giusto? Sì, sì, sì. Ieri c'era la finale, non l'hai vista? Certo. Eh sì. Chi era il tuo preferito? Guarda, dovevo andare a... Ma ho evitato di andare, no? No, ieri sono stata a San Siro. Ah già, beh, comunque... Dai, eh! Facciamo suonare? Dai. Oh, se avessi voglia... No, ma non te lo chiedo, no? Se avessi voglia di cantare... Cantare? No. Guarda che... No, 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 no. Grandi budget! Mai sentito questa canzone? Canta tu, Giacomino! Madre Badessa, che bella voce che c'hai! È ben chiaccione! Minchia madre Badessa, che bella! Senti un po', e... Quali sono le cose che ti preoccupano, che ti spaventano? Del futuro? Beh, il futuro. Il futuro ti spaventa? Il futuro è abbastanza. Ma allora, forse la cosa che più mi spaventa è il clima. Il clima? Infatti, adesso sembra tornare a rompere i coglioni, però una delle ragioni per cui sono diventata vegana è perché l'industria della carne impatta tantissimo sul pianeta. Certo. E sta andando abbastanza male, la situa. Fa un caldo. La situa? La situa. Picco proprio. Quindi io chiaramente ho paura un po', anche come prima abbiamo parlato di diventare madre un giorno magari, mi fa un po' paura mettere un figlio al mondo, sapendo che questi disastri naturali comunque saranno sempre più frequenti, che farà caldo, è sempre più vivibile. Milano, visto che inquinamento c'è, fa un po' paura questa cosa, no? A te no? Sì, sì, figura. Quindi forse questo. E anche magari andare in un mondo dove mi fa anche un po' pochetto paura questa divisione. La divisione, forse è un po' pesantone questo, possiamo andare nel pesantone? Devi. Mi fa un po' paura questa divisione che c'è tra le persone quando si tratta di diritti umani, che c'è veramente bianco-nero e fatica, ci sono troppi estremi su questi argomenti, sull'argomento donne, sull'argomento razzismo, omofobia. C'è troppo una grossa fetta di umanità che ancora storce. Questa cosa, anche questa, mi fa un po' paura. Perché comunque siamo nel 2024 e che ci sia un po' di, non lo so, fa incazzare e mi spaventa un po'. No, ma hai ragione, figurati. Non per sminuire, anzi, ma penso che ogni generazione abbia le proprie paure. Io credo di avere il doppio dei tuoi anni, mi ricordo che quando ero ragazzo io eravamo spaventatissimi, non che adesso purtroppo sia diminuita questa preoccupazione, quella di una guerra nucleare. Perché mi ricordo che ero ragazzo, insomma andavo agli elementari e tutti i giorni si sentiva il telegiornale e questa crisi, a volte ritornano Stati Uniti, Unione Sovietica e c'era la famosa questione, non voglio addentrarmi troppo sulla Baia dei Porci, dove sembrava da un momento all'altro che gli americani sganciassero i missili o viceversa. Mi ricordo da bambino un appello del Papa e poi la cosa finì, però ecco, quella era una preoccupazione molto molto grossa. Adesso è vero, c'è la questione del pianeta e mi aggiungo in coda le cose che dici tu, questa divisione che c'è, è vero, anch'io la noto tantissimo, forse è sempre stata così Rose, che è molto difficile, se non quasi impossibile, esprimere dei pareri diversi, perché arrivo a dire questa provocazione, anche chi teoricamente ha ragione, a volte verso la parte avversa c'è un modo di dire le cose che è sempre molto violento, anche per affermare cose giuste, non lo so se questo sia il motivo, però è vero, adesso si litiga su tutto. Sì, sì, è vero, però sono argomenti che forse ai giovani fanno armi, almeno noi, adesso magari stavi parlando delle proteste pacifiche, non so se parlavi di questo in uno specifico, c'è questa situazione che c'è stata tra i giovani che hanno protestato e sono stati randellati. Sì, randellati, certo, certo. Comunque evidentemente c'è un fuoco che arde, c'è gente incazzata e io non credo, la violenza io chiaramente la bandisco sempre, comunque da entrambe le parti, però c'è quel fervore, come si fa a contenere, non si può contenere secondo me, insomma tutti devono potersi esprimere e soprattutto ai giovani non si toccano, non si possono tarpare le ali, gli ideali, soprattutto se sono dei ideali di pace per me, è una roba fuori dal... A figura, ti hai ragione, poi so che tu fai riferimento e anche a me ha colpito, perché per l'appunto, al di là degli scherzi, un ragazzo che frequenta il liceo, 17 anni e quindi sono tutti lì e gli argomenti terribili che viviamo sono quelli della guerra in Ucraina e Israele e Palestina, dove drammaticamente mi viene da dire che le due fazioni sembra quasi impossibile che si accordino, sembra quasi impossibile, per cui si vive... Mamma mia che pesantezza, hai ragione, no, no, ma hai ragione, hai ragione... Io te vado lì, Giacomo, Aldo, Giovanni e Giacomo, andiamo lì, facciamo... Sono comici mica da ridere noi, no, invece è giusto parlare di... Bella questa, questa era bella. Capito, ho il tempo ma... Senti Rosa, ma invece mi interessa se posso domandartelo, no, cosa ne pensi, non so neanche come definirla, della vita spirituale, dell'anima, ci pensi mai a queste cose, ci pensi... Ma... O a me non succede, eh? A me non succede, secondo me i vegani sono... Sì, ma reosi. Allora, io credo... Allora, io non sono religiosa, però sono successe delle cose che hanno troppo del trascendentale nella mia vita, c'è troppo, c'è qualcosa e non posso negarlo. Altri direbbero la provvidenza. No, io credo proprio... No, io credo... È per dire l'amore. Sì. Per me l'amore è una cosa che trascende su tutto, cioè non c'è, tipo, anche quando magari una persona muore, io credo che l'amore sia una cosa così forte, così trascendentale, che in qualche modo resta. Cioè anche la fisica quantistica, per dire... Hai visto, Micchia? Sai che la seguo un po' a fatica, ma... La fisica quantistica, per dire, io ho uno zio scienziato. Eh? Uno zio scienziato, io. Esatto, perché? Zio scienziato, mi devo avvicinare. Ha uno zio scienziato che però è religioso. Fisico quantistico? Super... No, è un mega scienziato, quindi proprio la scienza. Sai che, intenzialmente, lo scienziato è scettico, no? Invece lui è molto, molto spirituale, perché la fisica... Io mi sono fatto, gli ho rotto due coglioni, così gli ho fatto, sulla fisica quantistica. Ci sono delle cose, delle spiegazioni sui quanti, gli atomi. Fanno delle robe strane, che si possono spiegare con la magia. Cioè, è una cosa magica. O? O? No. Cosa l'è? Eh no, se no, ho detto solo O. O è... Non ho fermato niente. O è una specie di domanda, eh. O. Altre possibilità. Che senso? No, lo zio, mi interessa lo zio. Lo zio, lo zio, tipo, per dire, se tu... Adesso, adesso non so esattamente, potrei dire una grossa cagata. Eh no, no. Il papà, però, vabbè, ma non sa niente. Invitato il fratello, cazzo, io invito allo zio, cazzo. Eh, lo so, tra lo zio. Scusa, fratello. Tipo, se tu separi due... Stiamo parlando del fenomeno, non so dire in inglese, integrament, inglitment. Ma io che cazzo, ne so. Dai, vai, vai. Eh, spacca la bottiglia, cazzo. Rispetto anche per la plastica. Rispetto. Eh, ricicliamola questa plastica. È riciclata, è scritto. Bottle recycled. Ma ti fai pagare almeno da questo brand? Cazzo, l'ho comprata io al bar dei cinesi qua fuori. Mazzarola. Vai avanti. Allora. Sono queste due robe, no? Questi due atomi. È l'atomo? Eh. Non è il quanto. È l'atomo, facciamo che è l'atomo. Semplifica. Il pubblico è quel che è. Semplifica. Tu li tagli in due, li lanci senza spazio né tempo in una... Nell'universo, no? Sì. E vanno lontanissimi, tipo anni luce, lontanissimi. Se tu ne tocchi uno, anche l'altro reagisce. Senza tempo e senza spazio. Fermati. Bellissimo quello del... Luce. Dubito. Che sia presente in sala un fisico. Ma c'è. C'è? No, cazzo, ho sentito la mano. No. Qualcuno faccia finta e mi dia ragione. Qualcuno appassionato di questo fenomeno c'è? Ma che pubblico di merda! Sì, è un disastro. Mia famiglia è disastrata. Nessuno ti ha mai sentito parlare di questa cosa? No, no, no. Non mi interessa il ci fidiamo. Lui, lui l'ha sentito. Lui la sa. Vieni. Come si chiama il fenomeno? Englitt. Engagement. Englagement. Non mi ricordo la pronuncia giusta. Però è quella lì. Sono di Manchester. Però è quella roba lì. Grazie. È l'engagement. È l'engagement. È dillo subito. Eh, l'ho detto, tu non mi hai capito. Hai detto un blan, un blan. Ma tu fingi di parlare inglese, ma non sai le parole, quelle che contano non le sai. Quando è che usi entangle. Comunque la band. Sì. E vedi che gli artisti... Sanno tutto, ragazza. È quant, fisica, quantistica. Comunque è una cosa bella. Engagement, giusto? Engagement. Engagement, no? Ecco, la roba lì è fantastico. Vero? L'ho studiata anch'io, che se tu separi due... Uno lo mandi a Pechino, uno a Roma, se tu ne tocchi uno... Quell'altro reagisce. È un po' come i gemelli. Sì. Eh, quindi... Ma perché hai tirato fuori quella roba lì? Quindi, secondo me... Per esempio, una persona... Stiamo parlando di tutte le robe qua, ma... L'unica roba seria di tutta la serata, dai, su. Quando una persona, secondo me, viene a mancare, rilascia delle energie, dei quanti, degli atomi, che, visto che, tipo, non so, una persona... Tu interagisci con questa persona. Quindi, se qua ci sono dei quanti, qualcuno morto, se io vado in questo... Qui... No, ridete. Se io vado qui dentro, reagisce il mondo, no? Regisco io, sento delle cose, senti. Ecco. Quindi qualcosa credo. Nella scienza, forse? No. Ma quella non è la scienza. Quella non è la scienza. Quello è l'amore. Quella è qualcosa di più. Cioè, che poi la scienza, come dice tuo zio, che è... Un professorone. Che è un professorone di stirpe, no? Anche la scienza non sa spiegarsi tutti i fenomeni. Cioè, bello... Il mistero della vita è il mistero di questa serata meravigliosa. Rose Villenna! Che c'è? Dobbiamo ballare, Giacomino. Che facciamo un po' i bulgari. Allora, ho evitato... Ho evitato, ma gli ho chiesto cosa vuoi che non si dica stasera? Non parlare di quella brutta storia del garlic. E io non ne ho parlato! Perché ti ho detto che avevo qualcosa contro di te. Tu sei una stronza, ma molto simpatica. Rose Villenna! Grazie. Doviamo andare in giro così. Doviamo andare in giro così tutta la sera. Adesso tu stai qua, 30 secondi, di qualcosa di intelligente al pubblico. Lo so che sarà 30 secondi di scena muta. Faccio la cantante, Giacomo. Scena muta. Vuoi cantare a cappella? Ma sei matto? Ah, punto. Sì. Voglio dei soldi per cantare. Ti mando l'Iban. Giacomino... 5 euro. 5 euro, sì. Stai lì, dai, canta! Canta le tue canzonette! Ma tu dove vai? Arrivo, stai lì, arrivo, canta! Le mie canzonette? Brutti sogni, bad vibes, fatti senza... È un garpez! Ma ragazzi, ci posso credere? Questo è il sogno della mia vita, avere un garpez! Meraviglioso, Giacomo, questo è il regalo... Kiss me, baby! Un garpe! Roswellen! Chiama Grammy! Ciao a tutti!